Bentornati, nella serie di video che iniziamo oggi vedremo insieme alcune trame un po' bislacche d'opera. Lo scopo non è assolutamente di leggere l'opera, al contrario, sapete che l'amo tantissimo, ma semplicemente di sorridere insieme a voi di alcune bizzarrie, di alcune incongruenze che spesso si trovano nelle trame dei libretti d'opera. Per cui prima di cominciare non prendiamoci troppo sul serio e ricordiamoci sempre quello che diceva il grande George Bernard Shaw. Tutte le trame d'opera sono fondamentalmente uguali. Il tenore vuole andare a letto con la soprano e il baritano lo vuole impedire. Oggi parliamo del Trovatore. Trovatore è fondamentalmente quattro personaggi. Azucena, una povera donna che fa uso da tempo immemorabile di sostanze evidentemente tagliate male perché se così non fosse non compierebbe una serie di comportamenti assolutamente inspiegabili. Manrico, il classico tenore dell'opera tutto palle e niente cervello. Leonora, che all'uso del tempo si innamora di un uomo che ha visto a malapena e di cui non sa neanche il nome. E' il conte di luna che vive questo dissidio. Da un lato è il bulletto del quartiere perché io so io e voi non siete un cazzo. Dall'altra parte è innamorato di Leonora e di questo non si può fargliene una colpa. Manrico e il conte di luna sono rivali d'amore e nemici politici. Leonora ama Manrico ma schifa il conte di luna. Allora la trama del Trovatore per complessità potrebbe fare invidia a una telenovela. Tuttavia cercherò di essere quanto più semplice e schematico possibile da raccontarvela. Allora il vecchio conte di luna accusa una zingra di stregoneria e la brucia sul rogo. Erano anni in cui Amnesty International era ancora agli inizi. Azucena, figlia di questa zingra bruciata sul rogo, decide di vendicarsi, rapisce uno dei due figli del conte di luna e lo brucia. Anni dopo questa scena troviamo il figlio di Azucena, Manrico, e il figlio del conte di luna, conte di luna. Perché il librettista ha pensato bene di chiamare padre e figlio nella stessa maniera senza dargli uno straccio di nome, così ci confondiamo meglio. Anni dopo, dicevo, sia Manrico che il conte di luna sono rivali in amore e nemici politici. Nella scena iniziale dell'opera, Leonora, tutta pervasa da quest'amore quasi stil novistico per quest'uomo che non ha mai incontrato, sente Manrico che canta per lei dalla finestra, scende per incontrarlo, ma incrocia il conte di luna e nel buio promette amore al conte di luna invece che a Manrico. Pensate che buio che c'era. I due rivali quindi si incontrano e invece che ammazzarsi cantano uno splendido trio di geloso amor. Trio che dovrebbe concludersi con Manrico che viene ferito dal conte di luna ma riesce comunque a scappare. Questa cosa è bellissima perché quasi nessun regista la realizza bene, per cui questi due cantano, poi combattono dieci secondi, poi uno esce da una quinta e l'altro esce dall'altra quinta e questa cosa è bellissima scenicamente. A Zucena, quindi la figlia della zingra bruciata che aveva rapito uno e due figli del conte e che aveva bruciato per vendetta, racconta a Manrico, suo figlio, di aver compiuto questo terribile crimine, ma gli dice anche che ha commesso un errore per cui lei ha sì rapito il figlio del conte, aveva sì intenzione di bruciarlo, ma si è sbagliata e invece il figlio del conte ha bruciato suo figlio. E questa ragazzi è veramente l'apoteosi della trama. Ecco perché dico che probabilmente a Zucena si faceva di sostanze strane, perché confondere il proprio figlio col figlio del conte, non devi essere molto lucido, ok? In più per confondere avranno dovuto avere la stessa età. Dovevano essere fisicamente uguali, non so, tutti e due biondi, o tutti e due mori, o tutti e due chiari di carnagione. E dovevano anche essere vestiti uguali. Immagino quindi che il figlio del conte, probabilmente avvolto in ricchi panni, fosse esattamente uguale al figlio della zingara, che vive raminga in giro per il mondo. Nel momento in cui a Zucena ci racconta che ha bruciato il figlio sbagliato, noi capiamo che quindi Manrico, che lei ha allevato come suo figlio, è in realtà il figlio del conte. E infatti Manrico chiede a lei, non sono tuo figlio, chi sono io, chi dunque? Ma lei si rimangia tutto, lui che non è propriamente una cima, se la fa andar bene. Ma al netto di questo, noi spettatori sappiamo che Manrico è stato quindi allevato da Zucena come suo figlio, ma in realtà è il figlio dell'uomo che aveva bruciato su rogo la mamma di Zucena. Spero che mi stiate seguendo. Mentre sono lì che parlano dei fatti loro, giunge voce che le onora, pur di non concedersi al conte, prenderà i voti. Manrico quindi molla tutto e si precipita a salvarla. Nel frattempo, a Zucena pensa bene di farsi catturare dal conte di Luna, veramente come una dilettante allo sbaraglio. Non solo, siccome anche lei è dotata di grande furbizia, dice di essere la mamma di Manrico. Il conte di Luna è incredibile di tanta fortuna. Ha catturato la donna che gli ha ucciso il fratellino e che oltretutto è anche la madre del suo nemico e riva in amore, la quadratura del cerchio. Manrico è riuscito a scappare con Eleonora e stanno organizzando un matrimonio in segreto. Anche in questa scena loro si promettono gioie di casto amor. Casto, per l'amore del cielo, sia mai che stasera ce la spassiamo. Giunge però a voce a Manrico che a Zucena è stata catturata e che verrà messa a rogo. Manrico quindi rimolla tutto, perché appena lo chiamano rimolla tutto e scappa, e corre in soccorso di a Zucena e infatti viene catturato in cinque minuti come un tonno nella rete. Scena finale, a Zucena e Manrico sono nella stessa cella, la prima condannata a rogo, il secondo al patibolo. Eleonora chiede pietà al conte di Luna della vita di Manrico. E qui c'è la bellissima frase del conte di Luna. Ha dell'indegno rendere vorrei peggior la sorte, fra mille atroci spasimi centuplicar sua morte. Alla fine lei cede e gli dice va bene, acconsente a sposarti, tu però libera Manrico. Il conte di Luna acconsente e Eleonora va ad annunciare a Manrico che verrà liberato. Non prima naturalmente di aver preso il veleno che ha nell'anello, perché a quei tempi tutti andavano in giro con un anello con dentro il veleno, un po' come oggi il cellulare diciamo. Arrivati nella cella, Manrico capisce qual è il prezzo della sua liberazione e invece per ringraziare Eleonora comincia a insultarla. Gli effetti del veleno cominciano a farsi sentire e Eleonora pian piano è sempre più debole, al che Manrico capisce cosa ha fatto lei e anche il conte di Luna si rende conto e dice a volle me deludere e per costui morire. Quindi Eleonora muore e il conte di Luna, abbastanza inviperito, fa prendere Manrico dagli sgherri e portarlo al patibolo. In tutto ciò Manrico dice a sua madre, a madre, a madre, a Dio, sono nella stessa cella, ve lo ricordo, ma lei è stanca, sta dormendo e quindi non lo sente. Quando si rende conto che suo figlio è il patibolo è ormai troppo tardi e in quel momento rivela il conte di Luna che l'uomo che lui ha appena fatto giustiziare era in realtà suo fratello. Fantastico, vero? Cioè, neanche Beautiful è mai arrivato a tanto. Prima di concludere vi faccio notare due cose. Nella famosa era il conte di Luna, il balè del suo sorriso, c'è una frase che viene sempre detta male e viene anche sentita male, e cioè, l'amor è un dardo, quando invece la frase corretta è l'amor on dardo, cioè l'amore di cui io ardo, non l'amore è un dardo, una freccetta. Seconda cosa, poniamoci un dubbio esistenziale, ma quanti anni ha Manrico? Manrico è il prototipo del tenore eroico di quei tempi, quello che spara il famoso do della pira, ma quanti anni ha Manrico? Manrico ha 16-17 anni, chi ce lo dice? Il conte di Luna stesso, che quando cattura Zucena, gli dice, tu hai memoria di cosa successe? Tre lustri orson, quindi 15 anni prima, ovvero il rapimento di suo fratello, eccetera, eccetera. Quindi, il bambino è stato rapito 15 anni prima, se era in fascia nella culla, quanti anni avrà avuto sto bambino? Un anno? Due anni? E quindi, la cosa problematica, non è tanto il fatto che Manrico abbia 16-17 anni, perché alla fine possiamo ritenere plausibile che un giovane a quell'età e in quei tempi fosse già un guerriero o comunque impegnato in attività guerresche. Il punto è che noi vediamo Manrico come il tripudio della verità di un uomo e non certo di un ragazzo. Quindi, forse anche la voce che noi usiamo per Manrico forse dovrebbe essere rivista e corretta, forse ci vorrebbe un tenore più leggero. Quindi, ricapitolando, Leonora muore suicida col veleno, Manrico viene mandato al patibolo, a Zucena viene mandato al rogo e il conto di Luna vive, dopo aver perso la donna che amava, e mandato, senza saperlo, suo fratello a morte. Fantastico. Alla prossima.